Sono il sindaco di Castelsemme, Silvano Martelozzi, padrone di casa per una firma e un momento molto importante che vi facciamo raccontare. Oggi abbiamo firmato l'atto costitutivo della CER, denominata CER del Seprio, e abbiamo siglato lo statuto che dopo andremo a registrare. Oggi siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti, in quello che fino a un anno fa era un sogno più che altro, siamo riusciti a riluppare gli imprenditori del territorio e insieme a loro abbiamo aderito a questo bando di Camera di Commercio che oggi abbiamo chiuso con l'atto formale di costituzione della CER. Ovviamente non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Mi auguro che la CER si sviluppi, che le CER continuino a crescere, a costituirsi sia in provincia che in regione ovviamente, perché poi i benefici, naturalmente al beneficio ambientale, noi contiamo molto sul beneficio sociale. Quindi ci auguriamo che questa CER possa dare una mano anche a coloro che hanno difficoltà, come amministrazione comunale ovviamente. Devo ringraziare questi imprenditori del paese, imprenditori di seconda e di terza generazione che, come sappiamo tutti ma spesso dimentichiamo, sono un po' la spina dorsale dell'economia del nostro paese. Grazie alla loro verve, alla loro voglia di fare, siamo riusciti a fare gruppo. Mi auguro che questa rete si ampli, come ho detto prima, e quindi oggi, ripeto, siamo molto soddisfatti tutti. Grazie.